Ma dopo ti presentavo con tutti i crismi, Deborah Salvalaggio Buonasera, no, perché ho visto che hai fatto, Enrico, eh? No, 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 ma figurati, ma figurati se ti salto Buonasera Ciao, ciao Deborah, com'è andata la tua settimana? Benissimo, grazie, la tua? Molto bene, sì, abbastanza bene, sì, non c'è male, purtroppo il tempo a Milano è quello che è A che piano ti fermi? Un po' mal di gola io Eh, vabbè, discorsi da ascensore, ma comunque Eh, il personaggio, il personaggio, in effetti, sì, è raddoppiato tutto, vabbè Il, come è andata? Molto bene È andato molto bene, sì Benissimo E poi ha promesso che per la festa dell'Inter aprirà un Beccalossi del 61, Enrico Ruggeri Buonasera Più bella di Mara Maionchi, Deborah Salvalaggio Buonasera E poi permettetemi di presentarvi Ma perché? Pensa, tutte le volte che... Dico, Ariedo, poi ne pagherai le conseguenze Ci voglio soltanto avvisare Ma non credo... Con, no? Con le loro copie Può capitare Può essere Guardo se anche su TV Sorrisi e Canzoni è riportata la notizia di Corona Vedo una foto su TV Sorrisi e Canzoni Guardate Allora Torne... Che è?